Salute nera azzurra amici di Facebook, YouTube e Instagram, buonasera a tutti ragazzi, un saluto a tutti iscritti al canale, bentornati nelle live reaction, bandiere nera azzurra al vento, garriscono il vento del nord, le bandiere dei Templari sotto, splendidi bandieroni, primo anello, secondo anello, curva nord, bella sbandierata, ci siamo, formazione particolare, il mister si è inventato questa corsa a cap di varicate con Andanovi c'importa e non ho capito perché, perché poi siamo oggi, oggi grande godure oggi ragazzi, prima partita di campionato, 1-5 in trasferta, ci siamo, ci siamo, si vede che ho fonato un po' il ciuffo, sembra Elvis, ci siamo ragazzi, i giocatori già in gambo, porca puttana, assolutamente vincere, che quelli hanno vinto 1-0, quelli hanno vinto 1-0, siamo l'armata nera azzurra, ho finito di mangiare da 5 minuti ragazza, stasera oggi giornata beniativa, ma grande soddisfazione dei ragazzi, attenzione, Nicolò, recupera per un attimo, ma se la faccio l'aria, se la fede di noi, tu hai ultrata, Udinese, eccolo, l'aria, 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 forza Inter, la 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 forza Inter, lo 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 cazzo onda male, avva Cervi verso il briscola il briscola che bello lungo lungo per i bastoni si ferma un attimo e la dà ancora bello che è il briscola il briscola metti in mezzo deviato angolo angolo quarto minuto bella 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 azione briscola di Marco bella Cervi molto bene la faccia a sinistra partiti di Marchino Barso arriva la palla Nicolò fuori aria ma tira il sinistro cazzo di esterno a destra usalo il sinistro all'indietro da Silvestri a impegnare i tre difensori ma anche i due esterni vanno a cercare a legger l'inserimento dell'interno Udoge oh Luca Cuberano Nicolò 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 non c'è niente Nicolò non c'è niente davvero oh ma che cazzo spinge così quello ma i piedi non si incrociano no vuoi vedere hai visto il piede che a un certo punto fa così sembrava no è una spinta però non è una spintora no 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 briscola dai dai Denzel dai Denzel a sinistra è partito vai Denzel spingi spingi che è il campo Denzel cazzo dai non farò andare in fuorigioco ma che palla di merda Denzel ora deve subito a Gieco che ormai è in fuorigioco dai Denzel bravo briscola gli applaudi ancora Nick Nick palla dentro per Rom 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 mette in mezzo Giacone no è anticipato Denzel cazzo ha preso la palla era lì l'arbitro figurati tutti morti si vabbè devi alzarti oh eh si la qui cazzo vediamo vediamo aspetta eh ma è rigore ma è rigore non lo tocca la palla va sull'uomo questo è rigore oh ma questo è rigore ma è rigore tutta la vita adesso lo da stupirla siamo molto al limite al limite cazzo questo è rigore avete rotto le palle è entrato malissimo e prima ballena la spinta dico vabbè dai è leggera ma questo è fallo tutta la vita oh eh va va vai a vedere dai eh sì eh dai 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 eh 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 e andiamo e se non è rigore è questo cazzo dai oh è minchia dai rom dai rom diciottesimo lukaku sulla palla parte romero lukaku silvestri gliela prende silvestri gliela prende si rimane 0-0 male 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 calciato male bisogna vedere se è uscito è entrato prima quello in aria però però ha girato male eh è da ribattere ma almeno male porca troia fai vedere erano entrati dentro l'aria per sulla respinta eh no eh zio eh le regole sono le regole ce lo faranno vedere guarda ancora più pressione parte rom e andiamo ha scelto lo stesso angolo cazzo lukaku adesso questo è un bel tiro questo è un tiro di lukaku non il primo dai uno a zero e andiamo e andiamo rom dai finalmente dai minchia come l'ha messa dopo capa di che è il suo parola pam ah no ma guarda quanti erano in aria oh oh ma si raffuole oh bravo bravo lukaku molto bene lukaku fa la sposa per nicolò nicolò che gira tutto molto bene per acerbi molto bene che bello mickey mickey che peccato che bella azione oh ancora nostra Giacone Giacone ma che bella che era bravo acerbi Giacone metti in mezzo e facci un gol e forza in te e facci un gol ed è la no che te lo chiede sì ma non devi barcollare così e forza in te facci un gol e facci un gol e facci un gol oh lukaku ma c'era il facile Brozo lukaku qua vedi che glielo sta dicendo c'ha ragione qua Brozo perché c'era era molto più facile quindi questa parte l'ho vissuto solo Lovric la piazza in quale porca puttana porca puttana lukaku ce l'hai facile su su Brozo vici andiamo andiamo verso la porta no la dà difficile quelli ripartono e perdiamo gol vaffanculo dai muoviti Raul Cremona dei poveri ma perdi tempo dai fango no avessi facile lukaku qua adesso tu ma cazzo ma perché fate le cose più difficili no adesso lui aveva facile lukaku Nicolò mannaggia la misera prima lukaku aveva facile Brozo cazzo perché vogliamo fare una giocata più difficile abbiamo quella semplice dai Michi rimarca mi chitaria sul punto di battuta tutti i saltatori dell'Inter in aria di Marco con il colpo di testo porca troia a Cervi non faccio di tenere bravo proprio là si dice primo tempo poco no cioè a parte il rigore colpo di testo di a Cervi che tempo abbiamo fatto no cioè poco e loro ma e loro ci hanno fatto gol ci hanno purgato cioè dobbiamo fare di più ci vuole di più mister iniziamo a fare qualche cambio pensiamo a Lautaro lì davanti perché è in attacco veramente poco un calcio praticamente vediamo lì metti in mezzo uno uno Nicolò prende Dunfris Nicolò prende Dunfris ma non ci voglio credere bello 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 tutti di prima Denzel Denzel metti in mezzo ma dove a chi perché all'indietro cazzo minchi limite dell'area ma che cazzo di cross Denzel di Marchiro dentro dai dai prova no lì entro un po' guarda andrà esci minchia cazzo esci tu li ce l'hai lì a due metri porca troia dai dai micchi briscola briscola guarda in mezzo mette in mezzo oh oh gli è scappata cazzo gli era scappata dalle mani dai bravo bravo oh fallo su D'Ambrosio eh sì eh dai 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 cazzo gli era sfuggita avviscono il vento del nord noi siamo l'armata nera azzurra ovunque i nostri colori oh dai ragazzi però dai dai cinquattottesimo dai mister fai i cambi dai che dobbiamo vincere oh ce l'hanno quella Lautaro era ora oh meno male che si era allungato meno male che si era allungato a Beto andiamo noi dai 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 Dzeko di qua dai veloci così ma no così Dzeko cazzo che palla di merda oh 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 bravo Michi mamma Michi andrà dietro che palla recuperata dai Dimash dai dai saliamo senti pubblico dai il briscola a sinistra il briscola mette in mezzo dai Dzeko dentro là dai 64esimo mi fai dell'area Michi 1-2 tiro ma cazzo 1-2 che bello con Dimash Lukaku mette in mezzo è ancora nostra il briscola ma che bello l'1-2 briscola mette in mezzo anticipato guarda quel lato in scivolato mi rilasciato oh 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 D'Ambro D'Ambro bravo D'Ambro e fallo su D'Ambro pure eh certo bravo D'Ambro Dimash Dimash mette in mezzo anticipato Lautaro oh Dzeko Dense non tira è angolo è angolo eh eh sì dai 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 ciala dai ciala inventa ciala che sei bello fresco ciala ciala uh dentro Nicolò Lautaro prova subito a tirare ma scivola cazzo così bravo subito Faisac success sotto Lautaro entrato cialano con il strato D'Ambrosio poi D'Arniano oh oh che bello vai Giacone Giacone dentro l'area Giacone tiro fa un alto centrale ma cazzo ma che gol mangiato raga attenzione briscola no ma che gol mangiato cazzo Dzeko dai davanti la no oh 4 contro 2 meno male addosso a Denzel meno male 4 contro 2 dai 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 di qua dai così di qua ora dai ciala dai dai raga ciala ciala dimanche dimanche in mezzo aaaaaa micchi 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 che azione che azione cazzo che gol fa un culo che sofferenza cazzo dai che gol micchi micchi come la mette azione spettacolo ciala 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 che se ne va in mezzo al campo dimanche ma che roba fam mamma mia mamma mia micchi micchi oh è armeno l'armeno che corre come un treno vai però se come stai Giuseppe e io si è mangiato i gol gioco poi fanno l'azione loro meno male che l'ha tirato a sondenza perché quello si è un gol mangiato ripartiamo noi i gol clamorosa sta roba lancio di d'ambro che bravo l'auti che la mette giù molto bene per Giacone 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 no tenta di saltare l'uomo ma la recuperiamo molto bene con micchi 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 per dimanche subito dimanche per l'auti di trollare l'auti 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 si ferma mamma mia dai 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 Nicolò Nicolò palla per il toro il toro il toro il toro dentro l'area il toro paroletto no 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 toro no dai cucchiaione del cazzo troppa forza poi su questo cucchiaio la palla è chi di scusa toro porca tra devi fare il 3 a 1 qui altrettanto poi devi ci stare contro la Sannora ho avuto due occasioni clamorose e poi non ho riuscito ad andare a concludere dai il toro dai il toro il toro il toro dentro l'area tiro e il toro il toro mattine e adesso la mette perché era troppo facile quello di prima ma a fare quello più difficile il toro e chiede scusa minchia che gol come si è liberato come al derby in supercoppa guarda come si libera hop nickia che gol e 3 a 1 è alla casa va a fare in tuo culo va e andiamo bravo nick bravo nick e se ne va e se ne va nick e manca 5 secondi se ne va nick 2 contro 2 non fischiare non fischiare che voglio non fischiare guarda 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 arriva 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 arrivava D'Ambrosio arrivava D'Ambrosio arrivava D'Ambrosio e minchia che sofferenza per farsi i tre punti con l'Udinese di Zico porca troia meno male meno male ragazzi meno male tre punti teniamo a distanza i milanistacci via pussa via pussa via sai come gufavano stasera pussa via e quindi niente però che sofferenza cioè veramente meglio il secondo tempo il primo tempo dormiente abbastanza dormiente quindi alle prossime live reaction sono quelle di Champions League ragazzi condivisione dei video iscrivetevi al canale sempre Forza Inter attivate la campanella Forza Inter e Forza Risbarbati ciao